Mi ricordo di essere veloce nel risposto a tutta la sede che c'è la consigliere Corcella, a parte dalla premessa ho illustrato le questioni. Mi ricordo che il mio collega ha già detto il dottor Tocci e anche quando ha detto che il bilancio è molto interessante, non potrebbe essere contabile in un bilancio solo, e lo è sempre stato, lo era quando era il sindaco Pestetti, lo è stato quando era il sindaco Rosacassati, lo è stato quando c'era il sindaco Sala. Però il problema del fatto di stabilità è che agisce come, io ho detto che specificamente, i soldi che si chiede come lo stanno a mettere via servono per fare i fuchi del comune di... e questo è un meccanismo perverso che fa sì che anche le cose che dice il consigliere Corcella si abbia difficoltà a fare. Sulla strada è da riparare, vogliamo tutti che è l'emergenza, abbiamo cercato una prima, quest'anno non è stata fatta la data di un palco che la manutenzione delle strade, abbiamo con una prima intervento da 20.000 euro cercato di rincorporare l'emergenza, adesso stiamo a riuscire da una nuova gara che stanzierà 70.000 euro per la manutenzione delle strade, che però è stanziata da un orneri, e quindi riteriamo che il corregionamento che facevamo prima, che era 600.000 euro di previsione di orneri, 250.000 sui orneri si stanziati. Poi ci sono i numeri, dopodiché cercheremo velocemente di procedere con questa gara e di dare una risposta a queste cose che insomma la prova non si rafforcella, sono piccole cose ma sono le risposte che i cittadini si aspettano. Rispetto alla questione ex-beca, anche qui come sapete l'11 ottobre c'è la discussione dal Consiglio di Stato della causa, poi lo che noi pensiamo della vicenda ex-beca l'abbiamo noto da un'altra regola, quella che deve essere recuperata, deve essere recuperata con un piano più poemente con quella zona, quindi bisogna combinare con una geometria. Questa cosa, tra l'ingosia comunale, abbiamo detto la geometria, è la linea che noi abbiamo l'intenzione di seguire. Dopodiché questa linea, cercheremo di seguire qualsiasi sia la decisione del Consiglio di Stato. Noi su questa cosa abbiamo fatto una delibera che dice il Consiglio di Stato, ma facciamo perché io non ho capito l'ultima cosa che ha detto il Consigliere Romini, immagino che si riferisca a questa delibera, però mi piace essere più specifico, quanto uno lo sa anche a quanto faccio le attività, non ho capito che quindi... Non è una cosa di inificio, non della delibera, non della verità. Ma città, sull'inificio, prima che non abbiamo delitato, quindi, secondo me si fanno citate delibere, in cui sono state scritte cose che dovrebbero determinare le parere, a me non è il meglio, però... Però su questa cosa, come abbiamo detto il Consiglio di Stato, una cosa molto chiara, non facciamo finta che non sia successo nulla in questo Paese. C'è una causa di tipo amministrativo sulla questione verità che si collega a una causa di tipo penale che tutti quanti conosciamo. Non facciamo finta di niente, noi per garantire la legittimità di quegli atti abbiamo bisogno di tempo e è inopportuno che l'11 ottobre il Consiglio di Stato decida nel merito di questa vicenda. Quindi abbiamo chiesto al Consiglio di Stato di rimandare la decisione nel merito, perché non abbiamo dettagli che saranno sugli occhi, non facciamo finta della causa pubblica, dopodiché io ho detto che io sono garantista, mi bisogno di lasciare il tempo per tutti di decidere. In questo momento l'addizione del Consiglio di Stato su questo tema sarebbe meno fortuna. Quindi, però, lo Stato dell'arte è il 11 ottobre, si discute, la richiesta del Comune è quella di rimandare la discussione. Sulle altre temi importanti come lo spostamento delle poste, ci stiamo lavorando, anche qui che cosa ha fatto il Comune. Sono state fatte le scelte in passato che non ci torno più, sono state fatte le scelte che si sono rivelate molto problematiche. In questa fase noi abbiamo cercato di ritrovare, in collaborazione con le poste, delle soluzioni alternative più veloci di quelle della costruzione della nuova sette del cuore. Devo dire che le nostre proposte sono state prese seriamente da parte delle poste che stanno valutando, non abbiamo ancora una risposta. Contiamo gli ovviamente, però avremo. La proposta che stanno fatta le poste, ci sono tanti sedi a Cassano che potrebbero ospitare in modo più adeguato le poste, ne abbiamo segnate alcune. L'abbiamo fatto da facilitatore tra le poste e i proprietari. A questo punto la palla, c'erano le poste che non possono dire che a Cassano non ci siano delle alternative. Contiamo però che a breve ci chiediamo una risposta, che speriamo una risposta positiva. Rispetto alle considerazioni che faceva il consigliere Vestetti sulle scelte politiche, io credo che alcune scelte politiche siano state fatte, siano chiare, siano palesi anche ai nostri concittadini. Il fatto è di non andare a modificare il bilancio prima dai vincoli che abbiamo, perché il bilancio, ma tu così, era tecnicamente difficile andare a modificarlo, se non si avevano nuove entrate, o se non... Anche perché tenete conto che quando noi siamo arrivati, il 75% delle risorse non c'è stata impegnata sul lato della spesa. Però una serie di scelte sono state fatte, come ha detto così, che non c'è la stessa, sono stati evocati a comunicari, che non sono stati evocati a caso. Sul piano del territorio dovremo prendere, dovremo, uso il plurale, dovremo, con un'azione comunale, prendere, dovremo, decisioni, intenzioni, concedere, generalmente. poi condivido il video che ci fa, il consiglio di pescati di coinvolgere anche più il consiglio comunale e la cittadinanza. Ci sono temi grossi da discutere, su quali è opportuno che tutti quanti ci concentriamo, discutiamo, discutiamo, sarà la cosa che dovremo fare nei prossimi mesi. Aspetto alle considerazioni che fa il consiglio che ha fatto il consigliere Romini, certo che problemi a Cassano ci sono, problemi sulle manutenzioni, poi se vogliamo fare la polemica, che impugiamo questa amministrazione, il fatto che le porte di presso della scuola di Via di Bona, che non sono verniciate, credo da decenni, siano porte di vestimenti, e poi in realtà la polemica politica ci sta tutta, però voglio vogliere l'aspetto propositivo, non l'aspetto polemico dell'intervento di Romini, è evidente che dei problemi sulla manutenzione, sulla manutenzione delle strade, sulla manutenzione del verde, sulla manutenzione degli edifici ci sono, per risolverli sono necessarie due cose, una riorganizzazione del lavoro, della modalità di lavorare e degli uffici, sulla quale stiamo lavorando e che faremo, e poi riferiremo le risorse, perché senza le risorse, su questi interventi non si riescono a fare. Rispetto all'indificio, anche qui non è vero che non sono state fatte scelte, il TAR ha emesso una sentenza, in quel caso presentemente abbiamo deciso di non revocare il carico, ma di mantenere la, e quindi di, nonostante tutto quello che è successo sulla questione dell'indificio, di mantenere la linea impostata dalla presente amministrazione, dicendo che le richieste della proprietà non erano accogliibili, e dicendo però, guardate, che è cambiata l'amministrazione, c'era la volontà di, che credo sia una volontà, ma anche tutto il possibile, ma non è di avviare, per tutto il servimento dell'indificio, quindi non c'è la necessità di fare gli atti che venivano chiesti con quel dato al TAR, cioè imporre al comune di affermare il tuo 30 settembre, quel piano del TAR. E' stata un'indificio anche questa, per non potuto dire, no va bene, fatelo, ma sarebbe stato negativo per il comune di Cassano. Le ultime due cose riguardano la riscossione, in realtà il processo di riscossione del Cassano pagate è previsto dalla legge, ma la legge prevede proprio quello che dice il Consiglio Romini, che si mandano gli avvisi, perché se uno nel comune accetta l'avviso che viene mandato, c'è una deputazione delle sanzioni e si paga molto meno di quanto la parte dell'esameicale che uno dice da casa, su cui la sua casa riporta. Però qui questo è un processo previsto dalla legge e qui si segue la legge e si seguono i percorsi previsti dalla normativa. Sul bar della stazione in realtà il problema è che non si diceva c'è proprio un altro. Il progetto è stato fatto, è stato approvato anche dalle ferrovie, al di là che non è condiviso da chi poi ci deve andare proprio dentro, ma questo è un problema di chi ha fatto e credo semplicemente un problema di rapporti tra il progettista e che poi deve lavorare tutti i giorni di dentro, perché comunque quel bar deve essere un servizio per i cittadini e i pendolari. Il problema però non è tanto questo, ma è il fatto che quel progetto prevede a tre tempi troppo lunghi di realizzazione e quindi saremmo arrivati in polimente a luglio, agosto, settembre e l'anno prossimo. Ricordatevi, finché non viene realizzato il bar della stazione da un'altra parte, noi non riusciamo a ritrare le aree dove attualmente c'è il bar e quindi la provincia non può consegnare definitivamente le aree all'interno che ha vinto la parte e non può far scattare quei famosi 711 giorni. Questo è l'oggetto vero. Quindi stiamo cercando, modificando maggiormente il progetto, di trovare una strada più veloce che è quella di realizzare una struttura prefabricata mantenendo l'impostazione del progetto che è stato fatto con questo professionista che è stato pagato, però l'obiettivo è semplicemente questo. Noi contiamo di recuperare diversi mesi con questo con questo con questo momento. Però non dopo che come è stato fatto quel progetto perché stiamo parlando di una cosa che ricordo ho smesso di fare l'assessore con i pubblici era nel 2006 si doveva progettare questo bar siamo arrivati al 2012 e questo bar non è ancora che stiamo parlando di una struttura di poche decine di mezzo quadrato. Però l'obiettivo ma al di là delle polemiche è questo accelerare i tempi per accelerare la consegna definitiva della l'ultima cosa non ho questa cosa ma se l'avete considerato sicuramente verra è l'ufficio urbanistica è l'ufficio catasto è in capo all'ufficio con i pubblici spero di aver risposto alla fine svegliere.